GOL E SPETTACOLO GOL E SPETTACOLO GOL E SPETTACOLO Massa sciamanda con il secondo che suggerisce per quest'ultimo che da due passi deve solo appoggiare in rete di testa nel finale di tempo. Occasione da punizione per Massa con D'Angelo che para con l'aiuto della traversa. Con le immagini di Simone Luciani la ripresa si apre con l'azione insistita di Gobbo che perde l'attimo per il tiro e trova la risposta di un difensore ospite al quarto tiro di Giovanni fuori. Quattro giri di lancette più tardi azione corale degli uomini di Bonati ancora Massa ad inventare per Gobbo. Servizio al centro per sciamanda che trova il miracolo di D'Angelo. Al decimo è tempo del poker pescarese il tiro di Gobbo non è irresistibile ma D'Angelo non riesce a rispondere con il pallone che si deposita in rete per il 4 a 1. Al quattordicesimo c'è gioia anche per l'argentino Pastorini che trova il tap in davanti alla porta 5 a 1 e secondo gol in maglia pescarese. C'è solo il Delfino Pescara con Rosini che ci prova in più occasioni. Prima al ventesimo dove sbaglia porta a sguarnita poi al trentaseiesimo quando in diagonale su assist di massa trova l'angolo giusto che arrotonda ulteriormente il risultato. 6 a 1 passivo che può essere rimpinguato ancora dell'ex penne che allo scadere si dite ora un gol a due passi dalla porta ma termina dunque così. Un Delfino alla quarta vittoria in cinque gara Villa un netto passo indietro rispetto alla gara di domenica scorsa. Il Delfino Curi Pescara Villa 2015 6 a 1. Quando prepari una partita in questo modo giocando a tutto campo uomo contro uomo ci può stare che prendi gol e che gli avversari comunque si trovano davanti alla porta per farlo. L'importante era avere l'atteggiamento per lunghi tratti della partita e averla portata a casa perché per noi era importante vincere questa partita per dare seguito al successo di domenica scorsa a Lanciano e soprattutto alla vittoria fatta qui con Giulianova dove abbiamo fatto un'ottima partita e quindi dovevamo dare seguito per questo per rimettere a posto la classifica che adesso diciamo ci sono ridi ma non è finita perché dobbiamo ancora fare 10-12 punti per poterci salvare. Sì sì ma oggi tutta la squadra è stata sul pezzo ma abbiamo preparato la settimana in questo modo. Il mister Bonati che oggi era squalificato ha chiesto questo. Noi abbiamo chiesto a tutti questo tipo di atteggiamento e i ragazzi hanno risposto con un grosso dispendio di energia. Sì purtroppo oggi c'è stato un passo falso diciamo anche perché eravamo in campo oggi, abbiamo fatto esordio da titolare un altro 2004, eravamo contati in difesa, non eravamo un difensore di ruolo, eravamo tutti tersini e va bene è andata così anche se io per i primi 20-25 minuti sono contento. Ovviamente manca l'esperienza su un campo stretto, piccolo, contro una Flacco che ha fatto il suo gioco bene e ci ha messo in difficoltà.